Invincible, serie Amazon basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, ha riscontrato un successo strepitoso a tal punto da essere già stata rinnovata per altre due stagioni. In molti speravano in un'apparizione di Save Age Dragon già nella prima, ma quanto pare la porta per un suo cameo in futuro sarebbe totalmente aperta. A rivelarlo è stato il suo creatore Eric Larson, che ha spiegato come non gli fosse stato ancora chiesto di utilizzarlo, ma non avrebbe problemi a farlo se solo non fosse dispendioso. Save Age Dragon è uno dei pochi personaggi della Image Comics ad essere apparso sulle pagine di Invincible, giocando un ruolo importante nella storyline The Invincible War. La prima stagione della serie ruota attorno alle vicende del 17enne Mark Grayson, figlio del potente Omni-Man, il supereroe più influente del pianeta. Ben presto scoprirà di avere poteri speciali come il padre, nonostante un oscuro segreto del capofamiglia rischi di infrangere la quiete apparente. La storia è stata apprezzata da critica e pubblico per via dell'approccio tagliente e innovativo al mondo dei supereroi. Oltre allo show animato, Invincible sarà tramutato in un film in live action distribuito da Universal Pictures e prodotto dallo stesso Kirkman. La sceneggiatura sarà curata da Seth Rogen e Evan Goldberg. Mentre non si hanno ancora dettagli sul cast che ne farà parte e sulla possibile data di uscita. Ma voi ragazzi, cosa ne pensate di tutto ciò? Avete visto la serie Invincible? Vi è piaciuta o non vi è piaciuta? Fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo!